Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Nel biennio 1990-1991, uno dei più importanti della sua quasi quarantennale carriera artistica, la cantautrice canadese Lorina McKennett continua ad accrescere ulteriormente non solo lo spettro delle sue già ricchissime influenze musicali, ma consolida e rafforza anche una maturazione culturale e spirituale che la porteranno a collaborazioni importanti. Questo biennio è anche il periodo in cui Lorina, dopo i tanti sforzi, riceve anche la prima conferma del suo validissimo acume imprenditoriale. Tutte queste esperienze confluiranno con straordinaria alchimia nella produzione del suo primo vero capolavoro e disco d'oro negli Stati Uniti, The Visit, celebrato nel trentennale della sua pubblicazione con un'edizione a 5 dischi, 4 cd e un blu-ray con l'album remixato in multicanale. Ma come di consueto cominciamo a mettere gli elementi in ordine. Parte dell'impianto spirituale dell'album arriva dalla prosecuzione della collaborazione al progetto Women and Spirituality del National Field Board of Canada, una trilogia di documentari dedicati alla figura femminile nell'occidente, a cui l'artista canadese continua a prestare le proprie ispirazioni musicali. Siamo ancora nel 1990 e in The Burning Times, questo è il titolo del secondo documentario della trilogia, cominciano a confluire gli sviluppi dei primi abbozzi di parte del materiale nato durante le sessioni di registrazione del precedente Parallel Dreams, che ho già introdotto su questo canale. Il tema principale del documentario è una prima versione di quello che diventerà in The Visit lo strumentale Tango to Evora, uno dei brani più intensi dell'album, omaggio ad un'antica città del Portogallo. Il senso del documentario e quindi di parte della poetica di The Visit sono spiegati dalla stessa Lorina in un'intervista del 1991 dal simpatico finale. Long after Roman times, women continued the ancient traditions of the old religions with a thousand small ceremonies in their daily lives. The Christian Church and State branded them witches and condemned them as worshippers of the devil. I worked on a project called The Burning Times for the National Film Board and it was a film, a documentary film which explored the period of time in Europe when women were burned as witches and trying to understand the whole concept of that. Ma il maggior contributo per la creazione di The Visit arriverà a Lorina attraverso una profonda maturazione culturale. L'evento che segnerà profondamente il suo percorso artistico sarà la mostra sui Celti a Palazzo Grassi di Venezia nel 1991. La mostra, che presenterà al grande pubblico la più vasta collezione di reperti celtici, consentirà a Lorina di scoprire l'estensione geografica di quest'antico popolo nordico e la sua importanza per lo sviluppo di tutta la cultura europea. Le primissime origini dei Celti non sono nord-europee come molti credono, ma bensì dell'Europa dell'est, del nord-Africa e perfino dell'India. Parte di quelle influenze troveranno forma in The Visit, a cominciare dalla strumentazione. Il primo suono che si ascolta nell'album è proprio la caratteristica tambura indiana nella splendida All Souls Night, una ballata epica ispirata dalla correlazione esistente tra l'antica credenza giapponese di traghettare le anime dei defunti, rilasciando lanterne sui corsi d'acqua, e la festività celtica della notte di tutte le anime, All Souls Night appunto, quando venivano accesi i falò per celebrare il nuovo anno e scaldare le anime dei defunti. Potete ascoltare un estratto di All Souls Night in una registrazione d'ambiente che pone a confronto le quattro versioni contenute nel cofanetto. Lascio il link in alto a destra e nella sezione descrizione più sotto. Iniziai a studiare i luoghi dove le tribù celtiche erano vissute e si erano spostate, o i popoli con cui commerciavano e si mescolavano, dichiarerà Lorina in quel periodo, per poi iniziare a viaggiare per visitare questi luoghi. La prima tappa di un viaggio, che proseguirà negli anni e negli album successivi è il Portogallo. Tra le rovine di Quinta da Storres, un sito celtico, e la cittadina di Evora, patrimonio dell'UNESCO, viene scattato tutto il materiale fotografico che sarà utilizzato per l'album e poi per la Definitive Edition del 2021. Sarà la suggestiva bellezza della tenuta di Quinta da Storres, con il suo cortile dai quattro alberi di arance, ad ispirare il delicato brano di Courtyard Lullaby, altra perla di rara eleganza di The Visit. Ecco quindi uno dei primi significati del titolo che Lorina assegna a questo importante lavoro. Nel periodo in cui l'album ha già preso la sua forma definitiva, Lorina partecipa come ospite d'onore all'edizione del 1991 del Festival di Edinburgh. La cresciuta popolarità dell'artista canadese è dimostrata anche dalla circolazione dei primi bootleg, principalmente registrazioni radiofoniche, come quella che vedete a video, trasmessa dalla canadese CBC. Sono ancora esecuzioni dal vivo con arrangiamenti fedeli alle versioni studio. Quello che risalta maggiormente rispetto alle tracce registrate è la chitarra elettrica ed acustica del fidato Brian Huggs, figura carismatica che acquisirà sempre più importanza nella vita artistica di Lorina, arrivando a coprodurre molti dei suoi album successivi. Con rara saggezza e modestia è la stessa Lorina a rendere omaggio ai musicisti che la accompagnano. È anche grazie alle loro molteplici esperienze di influenze, rock, jazz, blues, world music, che Lorina potrà esplorare nuovi territori musicali, tutti immediati dal suo inconfondibile gusto e stile. Registrato tra gennaio e luglio del 1991, per il solo fatto di produrre se stessa, buona parte del processo creativo di Lorina si svolge in studio. La tavolozza in cui mischiare tutti i colori e finalmente dare forma al disegno finale e al senso definitivo di The Visit. Lorina ricorderà quei momenti come un atto di fede, oltre che un vero e proprio processo creativo, basato anche sui molti incoraggiamenti che riceverà. Taluni anche effetto di eventi piuttosto estemporanei quanto azzardati. Del libretto di 32 pagine che accompagna la Definitive Edition di The Visit, Lorina ricorda proprio il principale di questi episodi, quello in cui dal mangianastri della sua Honda Civic farà ascoltare tutti gli 11 minuti di The Lady of Charlotte al Senior Vice President della Warner Bros. canadese. Dave Tollington, questo è il suo nome, diventerà negli anni amico di Lorina, con la quale condividerà non solo la passione per i viaggi esotici sulle orme dei Celti, ma da subito anche la volontà di Lorina di preservare intatta la sua arte, senza interferenze dal vacuo sapore di marketing. Da quei primi contatti con una major, nati un po' per caso con un biglietto da visita scambiato in un negozio di dischi, nascerà la formula oggi nota come Lorina's Deal, un accordo attraverso il quale assicurarsi un fondamentale contratto di distribuzione, mantenendo però sia il controllo promozionale che creativo delle proprie produzioni. Grazie a tale accordo, The Visit sarà l'album con il quale Lorina diventerà un artista di livello internazionale, con l'album distribuito in più di 25 paesi. Ma The Visit rimane anche l'album in cui si può ancora ascoltare la lunga suite di The Lady of Charlotte, nel quale mettere in musica una riduzione dell'omonimo poemetto dell'inglese Alfred Tennyson, su l'ancilotto e l'incantesimo della dama di Charlotte, che non poteva volgere lo sguardo verso Camelot. L'accordo con la Warner Bros. le porta in dote la possibilità di far conoscere la propria musica anche in tour, non senza l'obbligo di dover rompere il ghiaccio davanti all'intera comunità dell'industria musicale canadese. Lorina supererà brillantemente l'esame e i due anni successivi alla pubblicazione dell'album saranno dedicati anche alle esecuzioni dal vivo, tra cui quella registrata all'Ontario Palace Forum di Toronto nell'agosto del 92, trasmessa poi per radio. Per anni questa esecuzione era rimasta un bootleg in mp3. In occasione del trentennale dell'album è stata recuperata per essere inclusa nel cofanetto. È una sessione piacevole e Lorina lancia anche qualche battuta, come nel caso dell'introduzione alla suite di The Lady of Charlotte, vista la sua lunghezza. Questa non è l'unica chicca del cofanetto, contenuta nei quattro CD e nel Blu-ray audio che lo compongono. Il primo disco è la versione originale dell'album, rimasterizzata nel 2004 e già uscita in CD. Il secondo disco è quello dedicato alle trasmissioni radiofoniche, di cui abbiamo in parte già parlato. Il terzo CD è dedicato a due lunghe sessioni parlate in cui si approfondiscono i tanti aspetti legati all'album, molti dei quali ve li ho già presentati in questo video. Questo disco è in lingua inglese, ma è decisamente comprensibile per chi lo mastica, come si suol dire. Gli ultimi due dischi sono dedicati ai palati, o meglio ai padiglioni più raffinati. Il quarto CD include il mix binaurale per l'ascolto in cuffia. Mi aspettavo a dire il vero di più dalle tracce multicanale incluse nel quinto disco Blu-ray. Mentre quella a 24 bit 96 kHz e non 192 24 come riportato nel retro di copertina è di poco migliore di quella in CD, di per sé già non eccezionale per l'eccessivo arretramento della voce di Lorina, la versione dell'album in DTS HD Master Audio è sovradimensionata nei bassi e mal bilanciata sui posteriori. Molto più pulita e corretta quella in Dolby Atmos, che non emoziona come l'ascolto stereofonico Hi-Fi, ma non essendo privo di eccessi è un piacevole esercizio per le orecchie. Purtroppo non è inclusa alcuna traccia video. Avrebbe fatto piacere al sottoscritto, come ne credo ad altri, visionare in qualità HD la performance di Lorina ai Junior Awards del 1992, in duo con la violoncellista Ofra Arnoy, in occasione della premiazione di The Visit. Per fortuna esistono anche altre fonti. Per questa video recensione è tutto, ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.